Cambiamo argomento, gestire i grandi flussi turistici rispettando il territorio e la sfida di cui si è parlato alla Spezia. Vediamo. Un settore, quello turistico, che nel Golfo della Spezia trova sempre più spazi di crescita. Dal vicino Parco Nazionale delle Cinque Terre, quello della Palmaria, fino al Parco di Monte Marcello Magra Vara, le eccellenze ambientali e paese gestiche sono tante. La difficoltà maggiore è però metterle a sistema, senza sbilanciare il delicato equilibrio del territorio. L'industria turistica e il mare sono non solo una passione ma un pezzo della nostra missione. In qualche modo la tutela del mare, la tutela dell'ambiente sono nella storia National Geographic da 130 anni, da quando è stato fondato. Per cui dare un supporto all'industria turistica e a un'industria turistica consapevole e responsabile è parte della nostra esistenza. Tante le realtà chiamate a partecipare al convegno Industria del Turismo e Industria della Bellezza, organizzato alla Spezia dal gruppo Valdettaro. A mancare, secondo l'amministrazione, è soprattutto la promozione del territorio. La sfida maggiore è riuscire a gestire i grandi flussi attirati dalle bellezze della provincia, spostandone anche una parte nello spazio e nel tempo, verso le aree meno conosciute e verso stagioni meno gettonate.